E buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Materni di Travotto Ed oggi siamo qui in questo nuovo video di Dying Light L'ho voluto continuare, ah, sono uscito dal rifugio, sì E siamo nel luogo di prima perché ci hanno fatto il culo gli zoom, se non vi ricordate, ci hanno veramente sfraccellato Tra poco faremo la stessa fine Allora, dai, salta sotto la nonna, bravo, ok, salta sotto la nonna ragazzi Allora, vediamo, questa è una missione Uno sfondiglio Aspetta fino a sera, ma sei pazzo Cioè, non si deve uscire di sera, tu mi devi far aspettare fino a sera, cioè Che già così è complicato Eh, guardate, proprio tu non è che mangi, tu strafoghi Strafoghi su chi ti è vivo, veramente Allora, andiamo un po' Andiamo un po', non trovo Non è che trovo cose abbastanza belle Cioè, qui si pagano sei dollari Eh, ma sei, ma sei coglione Sei dollari Per una zuppa Tua nonna è incinta Cioè, punto Tua nonna è incinta, punto e basta Appena sono uscito Guardate Guardate Sto entrando, sto c'è Tua nonna, tua nonna, no Eh, hai dei punti di abilità da spendere Grazie Grado, sopravvivenza, agilità, forza Ah, agilità Benissimo, allora Presa No, vabbè, no Il calcio di rimbalzo Durante la corsa Sì, questo Questo qui assolutamente R1 Oddio Cioè Oddio, ragazzi Fino al prossimo Provar Cioè, non capisco Però se questi sono assitati di sangue, no Vogliono la mia carne Perché non vengono dentro al rifugio Stanno tranquilli Quello che non capisco Cioè Se fossi uno zombie di loro Ovviamente più intelligente Dei zombie normali Cioè, io Io Cioè Andere nel rifugio E fare Mio mangiare Tutti quanti Cioè Ma invece qui la La E anche più No zombie Secondo te Andiamo Dobbiamo andare di qua Sfortunatamente Allora Prendiamoci come obiettivo Che Allora Saremo su questa Bellissima casa Credo che qui Non dovrebbero esserci Su dei rocci di zombie Sì Credo che non ci siano Credo che ci siano Però Allora Un po Ci dovrebbe essere qualcosa Tentiamo di fare Una cosa Stelta Ragazzi Allora Attirano i zombie Andiamo Facciamo Allora Prendiamo un'arma Silenziosa Ed efficace No Che cazzo faccio Che cazzo faccio Che cazzo faccio Oddio ragazzi Mi immagino di una cosa Quando accendo la torcia Si accende il controller No 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 Ok No Ok No Ragazzi Sono saltato Porca puttana Che cazzo Mi appare Un stronzolo Di merda Di cazzo Sa Crepa Crepa Oddio ragazzi Ho fatto un urlo Come il suo I giochi horror Non fanno Anche perché Io mi applico Un po Troppo Il brutto Che Io quando gioco Cioè Sono applicatissimo Ma poi ho fatto Un urlo Strano A donna Molto Mascolino Scassinare Allora Dobbiamo capire Dai Vediamo un po Benissimo Allora No Dobbiamo capire Ecco Ecco qua Ce l'abbiamo fatta A culo Non ho capito Neanche Cioè Per dirvi Mamma mia Cosa abbiamo Sbloccato Dove sta Nelle armi Già Mi ha messo No Allora Come si fa A mettere Inventare Mannaglia Da carne Al posto Della Ascia pesante Voglio Voglio Vederla Il coltello Dell'amore E ora Voglio un po Di sangue Dove sta Il sangue Eccolo Però Non è Non conviene Non conviene Tanto Allora Dovremo Andare Sempre In quel posto Quindi Dobbiamo andare Che ci piaccia Nella Sangue Dio Però è un po Impossibile Ragazzi Per me Che sono Player Di scarso Livello Su Dying Light Allora Per ora Non mi stanno Cagando Neanche Di striscio Se facciamo Piano Credo Che non Innamo Credo C'è Una Brutta Persona La Ah Quindi Degli Stronzi Già Mi hanno Visto Calma Scendiamo Allora Come Stanno Raga Con Calma Andiamo Scendini La Non Mi hanno Visto Perfetto Allora Voglio Tentare Di fare In modo Stealth Questa Missione Anche se La via Più Conveniente Non è Che sia Questa Che Questi Qua Già Mi stanno Mirando Di Brutto Allora Esaminiamo Un poco La Situazione Con la Pistola Dove La Pistola Ci sono Due Coccodrilli Ed Un Orangotango Una Quella Reale Il Gatto Il Topo D'Elefante Non manca Più Nessuno Bene Vabbè Basta Allora Secondo me Ci conviene Di andare Da dietro Per I giardini Dell'Eden Dove Eravamo andati Quella Quella L'episodio Scorso Ok Porco 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 Dying Light Un altro Rifugio Ancora Wow C'è qualcuno? No No Non c'è nessuno Perfetto Allora direi Dove Andare La Quindi Anime Coraggio Ci mettiamo a Camperare Sul Furgone Non ci Cagano Mamma mia Ma fan culo Tutti Fan culo Che non ci Cagano Fan culo Di striscio Vai Ricarica Sta pistola Vai Allora Equipaggiamoci Bastone Ecco La Mannaia Pure Anzi No A me piace Di più Il Il Coso Il Coltellone Qua c'è Il brutto Fuoco Lo scriviamo Benissimo Vai Parkour Best No E fuggi Fuggi Buttati Bella Allora Dobbiamo andare Là Vero No Aspetta Lo scopriamo Subito Ma per dove Si entra Per dove Si entra Non lo so Vediamo Un po' Ah Però c'è Qua Allora Qua Siamo noi Ci dovrebbe essere Una specie di coso Ecco Quella casarella Là Casarella Là Io direi Andiamo in Diversivo Bellissimo E Ce ne Fuggiamo Subito Sopra Quella Casa Ora Ragazzi Che Dio Sia Con Noi Attiva Attiva Trappone Bellissimo Ok Via 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 Ci abbiamo Fatta Ragazzi Siamo Entrati Ok Allora Siamo Dentro Non c'è Nessuno Nessuno Ci caga Guardate qua Che brutta Gente Madonna Allora Allora Sa che vi dico Direi che per questo episodio È tutto Perché sta per scadere il timer Ci vediamo sempre qui Nel prossimo episodio Così almeno Finiamo questa missione Dai Un abbraccio Maternity